Dopo la devastazione dell'alluvione di maggio 2023, la ricostruzione del campo sportivo di Vismara può finalmente partire. Oggi i sopralluoghi degli assessori Pozzi e della Dora nell'impianto di Via Liri, assieme alla ditta aggiudicatrice dell'appalto, ha dato il via libera al cantiere. Partenza dei lavori fissata per lunedì 22 luglio con l'intento di provare a completare il rifacimento del campo da calcio a 11 e calcio a 5 entro la prima metà di ottobre, in modo da renderlo fruibile per buona parte della stagione sportiva 2024-2025 per quel che riguarda i 200 ragazzi tesserati al club giallorosso. Tre mesi di lavoro per un intervento di riqualificazione straordinaria da 700.000 euro, di cui 440.000 proveniente dal bando sport e periferie e restanti 260.000 di cofinanziamento del comune. Il nuovo campo da gioco potrà ospitare campionati FGC fino alla categoria eccellenza. Contestualmente ci sarà l'installazione di pannelli fotovoltaci sulla copertura e altri interventi di efficientamento energetico, come la creazione di un nuovo impianto di scarico per il recupero delle acque meteoriche dell'edificio e la realizzazione di un impianto di domotica di irrigazione e illuminazione per migliorare la gestione del campo. Intervento che si aggiunge ai 50.000 già stanziati lo scorso marzo dalla Regione tramite il consigliere Baiocchi e destinati alle spese straordinarie di gestione dell'attività sportiva.